Ragazzi svegli, motivati, curiosi, ragazzi che oltre a studiare e superare gli esami e laurearsi abbiano anche dimostrato di essere interessati a quello che avviene nel mondo e che abbiano capito anche qual è la loro strada. In una sola giornata o in poche ore si riescono ad avere dei contatti che fuori dall'università è molto più lungo e faticoso ottenere. Le aziende che vengono a trovare gli studenti sono disposte ad ascoltarli e dedicare tempo. Lo studente che va all'esterno e cerca le aziende o va presso le aziende in genere fa fatica ad ottenere appuntamenti e tipicamente riesce ad avere poco tempo a disposizione dei manager per poterli incontrare e per potersi presentare. Capire cosa volete fare da grandi.